Sarai il mio successore, la presidenza sottolinea, la professoressa Enzo, e poi la professoressa Enzo. Questa società si è distinta anche per aver investito sui giovani, abbiamo presentato in questo lavoro i risultati delle ricerche di giovani che sono andati anche all'estero a produrre questa scienza e che sono stati finanziati dalla società. In più abbiamo anche un'attività filantropica, in quanto quest'anno abbiamo anche contribuito a risolvere i problemi di alcuni colleghi che hanno avuto per esempio il terremoto proprio qui all'Aquila e la società ha fatto una donazione veramente importante per aiutare una collega che lavora sotto la tenda, quindi già in questo momento perché l'ospedale è inagibile. E tante di queste attività continueranno, continueranno anche nell'aiutare molti giovani dermatologi che non ha possibilità economica soprattutto con scholarship di vario tipo perché il futuro della società dipende appunto dai giovani e noi ci impegneremo sempre di più per far sì che la dermatologia sia patrimonio di tutti soprattutto di quelli che poi ne dovranno soffrire in futuro perché per quanto ci riguarda personalmente i nostri obiettivi principali li abbiamo raggiunti ma dobbiamo investire sui giovani e questo credo che sia sul Presidente sia l'amore. Concordo pienamente e sottoscrivo. Grazie a tutti.